Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Life is Stray. Questa parte qua già l'avevamo vista, però non è tanto lunga. Max e Chloe sono andate a trovare Frank sulla spiaggia. Ma sono tutti convinti che Rachel è ancora viva per qualche motivo. Credo che questa qui è l'ultima parte di Dark Room. Un bel trip a Portland. Sì, tu, io e Rachel. Assolutamente. Quindi, play this cool, ok? Pagli Franco's money e poi possiamo ottenere il libro che lui. È tutto. Ho detto. Non diggeremo. Ok ci siamo Vediamo un secondo le fotografie C'abbiamo la balena Il mulino Uno skateboard Un'aquila Col nido E la luna con le No la luna Dica c'è la luna Quello è il faro che non ci azzecca niente Da qua Non ci possiamo andare La parte brutta di queste avventure Che però Deve essere per forza così Perché abbiamo una limitatissima Capace di possibilità Di movimento L'industria locale Non è qua Non è qua È sul faro Balena Sicuramente la riusciamo a fotografare Questa bianca Questa bianca è una cosa del genere E' incredibile Questa ballena Ha una foto Questi bestioni arenati Morti che ci hanno messo Chissà quanto tempo perché c'erano così grandi Ah Chloe ci sta aspettando Aspettate un secondo qui la macchina Ma questo qui è aperto Non è che c'è qualcosa qua dentro No Macchina La versione che hanno fatto Guarda La versione nuova di questo gioco True Color Sembra che sia qualcosa di incredibile Però non ci possiamo andare sulla spiaggia Vediamo se ci sono altre cose strane Niente A casa dei recenti eventi sulla costa Il concilio di Arcadia Bay Ha chiuso le spiagge Al surfing e al nuoto Questo per la salvaguardia Della vita marina E del pubblico Qui fanno la multa E andiamo avanti Bottiglie Adesso ci fa vedere che Frank ha bevuto Ricordiamoci che il cane non l'abbiamo fatto Non è morto C'è un po' di più C'è un po' di più Ok. Good doggy. Ok. Chloe sembra pronta per rumbo. Vediamo che succede. Come andiamo a prendere i soldi. E' il dinero. No, se mi scusse. Frank? Possiamo chiedere qualche domanda? Hai ragazze, ragazze. No. Ok, ok. Ma non ti stai spettando. Frank, non stai spettando spettando. No, non stai spettando. Non stai spettando. Non stai spettando. Quindi cosa vuoi ragazze? Solo i nomi di alcuni dei vostri clienti. Oh, è tutto? Oh, ma non mi racconti? Come non mi racconti? Come non mi racconti? Come non mi racconti? Non capisci. Non capisci. Non capisci. Questo è per una buona causa. Non capisci. Non capisci. La tua sua choc self èmmo sonata. Fiam e la mia modo che fissavamo. Non casse non stai sierva. Cioè cosa cosa stai sentanto. Non langora. Non ! Non Arena. Wow, Sergio. Espere di tuttiじゃi Marco gli un caviano. Pre Passamato con me! Non ho bisogno. Nique ban azione più come me si parte pełno. Si, no. Non simile vita ai contenuti. Dona ti uncompagno diQU probably. Stansi. La tua mamanza lontZai. Non comuna. given la tua medicina. è così grande che noi tu arrivi in pazienza? dopo aver guardato un uccionato a me e poi tirato il triggere a chi è chloe Dude, get off her ass. She was protecting me. You've got a knife and god knows what else. Are you really afraid of Max here? I'm not afraid of anybody except my maker. And you little bitches think you can outsmart me? Why, because I'm trailer trash? You're Blackwell trash, and it's time to take you out. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it? Step the fuck back now! Papadou! You fucking killed my dog! Oh my God! Oh. Non possiamo tornare indietro. Oh, ragazzi, ma qua l'abbiamo gannata proprio alla grande, a questo di gioco. Oh no! Tutte le nostre scelte ci hanno portato a tutta... ma le cose brutte. I just shot a man... ...and his dog. I killed Frank Powers. You saved my life, Chloe. It was self-defense for both of us. E perché non possiamo rimandare indietro? Frank is really dead. Cioè, aveva detto di non contare sul potere, però... Quando è morta Kate, c'era la scusa che l'avevo usato troppo, ma adesso? That's it. Let's get out of here. Sorry, Frank. I'm sorry. Jesus. Chloe actually killed Frank. She'll never forgive her so... Or forget this. Possiamo cambiare le cose. Non lo uccidiamo a Frank, perché non è stato lui. Perché sennò non moriva. Ecco, questa è una cosa buona. Perché l'assassino non muore mai prima della fine del film. Quindi, parliamo con Chloe. Tieni a freno alla lingua. Perché la pistola se la butta, poi ci uccide. Ok? Uccidiamo il denaro. Ma aspetta, ma... Questa è una linea di dialogo nuova. Non litighiamo. Grazie per ascoltarmi, Frank. Guarda, noi solo vogliamo parlare, e non è anche tu. Non siamo qui per iniziare una combina. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of some of your clients. Ma queste sono la stessa cosa. Oh, wow, wow, I didn't... Ehm... Riprendiamo con... Non capisci. Diciamo, non capisci. Non capisci, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk. No, no, I'm not. I... Oh, Christ, I hate you, Blackwell, shit. You expect everything to... Oh, Chloe, diceva agli stronzetti che tu vendi sei uno spacciatore. Oh, Chloe, ti aveva detto di stare zitta. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. You come in peace? After you aim the fucking gun at me, and then pull the trigger. Facciamomi e spaventate, così come non c'è ziffio. Frank, you scared me. You have a knife on my friend. I didn't want to pull the trigger. I can tell by the way you mailed that pop gun. With both hands, like it was a magnum. Maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight. I only want to shoot with my camera. I swear. Ask Chloe. Look, Frank, Max doesn't need a gun anyway. So are we cool? Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Diciamo a Pompey 2 carino. Che non è una cosa buona. Oh, that's so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my army. That's how he got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait. That's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here. And I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch. Get it? Step the fuck back now. Arriva il cane, muore il cane, muore pure lui. Andiamo, va. Non ci fa andare indietro. Ok. Torniamo indietro un'altra volta. Però eravamo andati bene fino a un certo punto. Non ci dovevamo dire il fatto del cane. Dobbiamo dire qualche altra cosa sul cane. Però il fatto che abbiamo detto che Chloe non deve parlare... Ma non c'è un modo per fermare qua, tipo, no, eh? Ok, parliamo con Chloe. Parla. Ok. Tieni a freno la lingua. E poi pure noi... Facciamo un poco più bravi. Dai il denaro. Così non si ingrazza. Poi non litighiamo. Hydro. Non capisci. Perché se diceva è già fatto... Pure si ingazza. E non vuole che entriamo nel camper. Mi è spaventata. I cani. I cani. Salvataggio di cani. Salvataggio di cani. Salvataggio di cani. Siamo tutta la scuola che possiamo ottenere ora. Especialmente da te. Te e Chloe non conoscono Rachel come io. E io non potrei anche aiutare. Sei davvero in mente. Perché non puoi giocare nel tuo clubhouse? Questo muo un'altra volta. Foto di Rachel. È un'altra volta. È un'altra volta. È un'altra volta. È un'altra volta. E tu. bravo Frank grazie Questa mi sa che è una cosa buona che abbiamo fatto. E' bello che Frank ha dato il codice per aiutarci. Rachel deve aver visto qualcosa di buono in lui. Questa non c'è niente. Questo qui non l'abbiamo visto, non ce lo fa vedere. Poi via dalla spiaggia. Non è che finisce Dark Room adesso. No, non è possibile. Perché abbiamo ancora un sacco di cose da fare nell'album delle fotografie. Queste sono tutte le prove. Chloe, sei ok? Sono felice che le cose funzionano bene con Frank. E' bello di avere un più enemigo in Arcadia Bay. Amen. Mi piacerebbe di concentrarsi su questa scheda e iniziare a tagliare queste cose insieme. Frank Ma ci siamo lasciati. Frank, piglia pace. Ma come ci dobbiamo sbagliare, Frank? Ma tu sei proprio da fuori. Vediamo se qualcun altro ci ha scritto o no. Nessuno ci scrive i messaggi. Allora. Ripinghiamo da capo. Andiamo prima da questa parte. Scusate. 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 Abbiamo il Frank a nostra parte senza usare te. Ah, quella è la pistola. Ehm... E' indagare. Cioè. Perfetto. Ci sono gli indizi di Frank, quelli di David e quelli di Nathan. Inizierei con quelli di Nathan, no? Scusate. 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 Come faccio a cambiare... Aspetta un secondo. Rifacciamo. Indaga. Perfetto. Non potrebbe aiutare di dare questo codice di PIN. Quindi ci sono quattro cose che possiamo trovare. Se c'è una sala oscura, potremmo lo trovare. È una buona cosa che si può trovare tutti questi file sul nostro flash drive. Non ho capito che ho detto. Niente di buono. Guarda. Ci sono molti numeri qui. Niente. Questa è la partita di Vortex Club in cui Nathan ha drogato Kate. Avete fatto la stessa cosa con Rachel a un'altra partita? Allora, la dossier studente, selezioniamola. Perché ci stavano i numeri. La fotografia. C***o. Nathan è davvero non sbagliato. Ma questi numeri potrebbero essere utili. Sì. E' così bruciato. E' buono vedere che i Prescotti non possono coprire tutte le loro tracce. Ho fatto il credito durante il corso della professoressa Yoda. Oida è stato rimandato al dormitorio. Noi dobbiamo selezionare quattro cose, ragazzi. Allora, il cellulare. Selezioniamo pure questo. Blocca. Ma che lo dobbiamo fare noi? Vabbò, è uno 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 uno. Ops. Bad code. Non è uno uno uno. Cossier studente. Però, aspettate un secondo. Abbiamo messo quattro cose. Ok, quattro cose. 2,4,2. Ok. Sì. Quattro cose. Sì. Quattro cose. Sì. 95 35 è giusto let's start hacking yeah i knew it wouldn't be that easy ma scusa veramente dobbiamo fare 95 35 39 88 5 4 2 non può essere non abbiamo detto 39 88 you locked it dumbass book di otto cifre 8 7 8 9 7 8 0 8 8 7 8 9 78 0 8 ok come va ho bisogno di GHB però non sappiamo di che ok grande coglione mi hai venduto acqua strunzo calmami i morti arrivo non venire e sbira la spiaggia quindi uno alla spiaggia e a casa stasera si fa festa a casa sto arrivando prepara la pipa un grosso Nathan was jonesing hard the night of the party he didn't have enough drugs eh i so voleva la droga ancora droga you're out of control tempesta spiaggia tempesta spiaggia so it was you now i can officially call you a psycho stalker no Nathan it's time for you to watch out asshole is this from Nathan's father that's brutal questo è quello lì che ci ha mandato il messaggio quindi Nathan ci ha mandato quella questo messaggio qua a noi ok abbiamo scoperto un po' di cose che lo spacciatore sta sulla spiaggia quindi era Frank probabilmente però non è che abbiamo scoperto tanto di altro eh non li possiamo nemmeno rileggere vabbè quindi adesso indaghiamo su Frank ora che lo teniamo più fresco allora questo qui dobbiamo prendere due cose uno è il libro contabile e poi ci serve un modo per decrittarlo non c'è dubbio che lo ha amato in qualche modo ok questa è Rachel che diceva andiamo via mettiamo il gioco è il gioco il gioco è il gioco no si vede a premere diciamo tutto taga allora foglio questo è il foglio ricorda ricorda questi nomi e vediamo come Nathan si vede a fare con tutto questo Chihuahua Katie Bobtail Franzi Carl scusate Nathan è rotto questi sono tutte sono tutti cani quindi dobbiamo cercare rotto quindi tutti i fogli dove sono scritto rotto questo qua è buono 65 dollari di GHB selezioniamo sono tre qua non c'è rotto qua non c'è rotto oh aspetta un secondo ma dovrebbe essere anche Chloe Chloe è bulldog aspetta vediamo bulldog bulldog 3000 dollari prestito ok qua bulldog non ci sta nemmeno rotto bulldog e nemmeno rotto non ci stava sono tutte due rotto e rotto ok 900 dollari cocaina speed e super ganja ok colleziona questo no mi ricordo che dog niente Frank avrebbe dato rotto e rotto 68 dollari e 150 dollari sempre cocaina quindi solamente 3000 dollari era il debito oh sì questi sono tutti i tempi e i tempi per i conti per i conti e i conti e i conti ah questo è Max solo che non abbiamo visto che c'era in queste due cose indaga bisognava cosa di nuovo ok vediamo un attimo foto di Kate e questo qua già lo sapevamo poi magari lui era cercando di aiutare Kate in sua sua messa poi Kate rimane nel bagno più lungo degli altri studenti vista Kate aiutare Jefferson vedete dopo le lezioni questo per ragione l'avevamo letto guarda questo Rachel evita il dormitorio e Rachel era affaro questo qua non credo che ovviamente sono un suspecato provare che David succede come un detecuto David ha stato davvero stato su Rachel per un tempo lei dovrebbe essere assolta ok foto di Nathan queste sono queste sono le camere di sorveglianza ok questo qua sicuramente questo qua sicuramente è questo qua dobbiamo chiedere a Chloe provare a morire le razze di puttane ti sfondi tu sfondi la porta della mia io distruggo la tua borsa di studio borsa di studio dobbiamo chiedere le coordinate a Chloe adesso allora come dobbiamo chiedere che caro è Nathan per migliorare le coordinate alo sicuramente Nathan drive un SUV overcompensati come usual there's Nathan dealing to the kids right out in the open SXFT I'm glad Warren ha ha chi è questo che è si SXFT wow questo mi sembra come una macchina che intenzione è questo è il caro di Nathan è è sicuramente il caro di allora vediamo può essere o questa o questa come ce ne facciamo accorgere bisogna partire da questa c'ha vedete è sicuramente rossa quindi la macchina deve essere rossa e poi c'ha i fanarini di dietro sinistri rotti e messi con lo scotch e quindi la targa è questa qua e c'ha i fanarini di dietro rotti e messi con lo scotch quindi è SXFTNDR ok quindi non è questa ok vediamo chi è la macchina questa è la macchina e questa è la macchina ah perciò ho camera oscura se non abbiamo uno aspetta 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 dobbiamo cercare ci siamo dimenticati ah adesso a parte che ci dovrebbe aver messo un altro posto che è la spiaggia però che non lo vedo questo perché non ce l'ha messo ok però andiamo un attimo dark room 4 ragazzi se cosa qua non l'abbiamo visto poi li mette pure in ordine qua non è che dici scusa che altro dobbiamo indagare su questi indizi take a breath max go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party allora non è questo sicuramente è andato alla spiaggia il 7 ottobre penso perché qui vede qui forse è venuto lui forse però pure qua guarda è andato load the ball quindi anche lui qua è andato a casa qui invece è andato Frank a casa sua però qua non ha non ha chiamato aspetta aspetta qui ha detto non venire sbirri alla spiaggia quindi questa qua non è l'unica che può essere penso è questa qua dice non venire qua invece ho detto vieni quindi è sicuramente credo questa vediamo un attimo il giorno però il 17 che sarà il 7 ottobre però non è il 10 di luglio alle 10 e 50 quindi quando dobbiamo trovare 39 10 4 questi erano due giorni alle 10 e 50 10 e 7 e 50 e 10 a m e 50 e questo tra l'altro c'è anche scritto alla spiaggia vedi 17 alle 10 e 50 10 e 7 alle 10 e 50 sarà questa qua la seconda quindi non è andati. Secondo me è questa qua. Ma cosa non c'è senso? diecisette qua ora diecisette alle dieci e cinquanta due diecisette alle dieci e cinquanta più o meno ci siamo no? quindi è solamente questo qua che è sbagliato che non stiamo facendo bene questo non è diecisette questo è diecisette alle dieci e quarantadue però non ci stava Nathan forse deve essere dopo 11 e 23 no dieci e quattro dieci e sette e 11 e 32 questa è tutta la mattina diecisette ma possibile? aspetta è debiliando qualche roba? quindi questa partita infamica era la quattro oh e questa non c'era sfuggita quindi non è dieci e sette dieci e sette e questa qua allora dieci e quattro alle cinque e ventisette quindi non è questa la selezione la selezione dieci e quattro aspetta abbiamo detto alle cinque e ventisei dieci e quattro dieci e quattro dieci e quattro dieci e quattro cinque e ventisei questo qua dieci e quattro alle cinque e quaranta dieci e quattro cinque e quaranta no dieci e quattro cinque e trentisei dieci e quattro cena non è la quattro caos da fronte a cattro context e a worth non è manco questo quindi aspetta però il gioco ci ha dato un'altra cosa ho detto la sera bisogna andare quindi non è questo però è il 10.4 ok questo qua alle 10 e 24 perfetto 10 4 alle 10 e 24 quindi non è questo questo no l'ultimo aspetta 10 4 alla sera era questo no no è questo 10 4 alle 11 4 alle 11 questo no 4 6 23 10 56 questo è questo questo è sicuramente il gioco Let me dig up some more clothes here Nope Nothing, Max There's nothing here Just a shitty old barn Let's keep searching and find out who owns this haunted barn I'm on this Hold on Somebody named Harry Aaron Prescott I'm shocked Should we call the police? Fuck that You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up As you've noticed, this whole town is messed up We can't trust anybody Except each other So we have to go out to that farmhouse by ourselves I was afraid you'd say that We could call Warren since he kicked Nathan's ass It's just the two of us, nobody else And I'm not scared at all You have the power I feel like we're this close to finding Rachel We have to find her, Max We will But remember My power isn't infinite We still have to be careful Do you hear Chloe? You understand? Guys, what crazy is this? We are like She's saying the game She's saying what we're saying Because we have to do the photo We have to do the photograph Of course Of course They're a L'Aquila, sono tutte fotografie che le dobbiamo fare adesso, dentro al fianile. Sì, questo è scambio. Sì, ma siamo qui. Siamo trovando il miglior modo in. Wow, guarda questo. Tracce di ferro fresche. Ok, guardiamoci un attimo intorno. Watson, possiamo sicuramente assumere che questo veicolo antico non è il nostro sospetto. Warren sta bene il nostro eroe e ci aspetta per la festa di stasera. Questa è la cosa che dobbiamo fotografare. Foto. L'abbiamo anche appato? Eccola. Ora ci rimane Falco, Luna e Scheletro con lo skateboard. Oh, guardate qua, la mira. Oh, f***a questa f***a. Possibile che ci sono così poche cose con cui interagire qua. Questa è una macchina di Chloe. Oh, cartello. Guarda noi. Guarda noi. ...tracce! Chloe è troppo freddo! Da dove è venuto? nidi non ne vedo dobbiamo spostare la mira potersi che stanno dentro anzi probabilmente no ma poi deve essere noti non lo so chloe i found the front door come on and the person so e ok come nidi non come nidi non non si che come non ma non 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 Jackpot, old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Yes, old Prescott clippings. Yes, but that can't be the only one. This tractor has paid its dues. Wow, sir. Talk about home on the range. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. Oh, but there must be. Passa. I guess the Prescotts were just born bastards. 22 luglio 1903. Martin Prescott, Ranch e Arcadia Bay. Mio caro signor Lyndon, le scrivo in merito all'ingente debito insoluto che ha deciso di ignorare. Noi Prescott non saremmo degli imprenditori affermati nella buona società, ma questo non ci rende a meno imprenditori. Il suo silenzio, a nostro avviso, costituisce un affronto personale. E a nome della famiglia mi impegno a farle saldare il suo debito con un interesse del 10% e una lettera di scuse. Se queste condizioni non verranno soddisfatte entro il 24 luglio, nell'anno del signore 1903, stia certo che renderemo la sua vita un inferno. Distinti saluti. Martin Lewis Prescott. E l'hanno mandata al mio caro signor Lyndon. Perché stai ancora a scendere qua? Credo che i Prescott erano solo nati, bastardi. Però questo qui non ci dice niente, a parte il fatto che erano bastardi di Prescott. Questo non ci dice niente. Oh, oh, bottone arrugginito. Ah, quindi, ok. Bisogna andare a tirare le corde. Oh, aspetta. Questa porta? Niente. Forcone. Ah, questo gancho sicuramente era di bello. Ah, questi ganchi sono usati a rinforzare le corde. Ah, va bene, con zucchero e caffè. Cocaina, già la usavano la cocaina. Chissà quanto è vecchio questa cosa, non c'è una data. Va bene. So many haystacks, so few needles. Secondo me dobbiamo usare questo suolo. Questo non ci dà uso il suolo. No, 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 no. Wow. Cosa è questo? È totalmente brand new. Perché? Sicuramente dobbiamo aumentare il gancio e la carrucola. O il trattore. Lucchetto. Non si apre. No, Supermax. Non puoi aprire questo con le tue bare hand. Fino a qua ce l'avamo arrivati pure noi. Collegiamo il... Ok, Chloe. Ho trovato un tipo di hatch, ma è fermato. Ho fatto questo. Ho spero. Ehm, una mano adesso ci servirebbe. Ma non credo che... Dobbiamo usare... Il trattore? Questa forma. Oh. Why, Max? Vecchio motore Ma come ti... No, dobbiamo agganciare... No, dobbiamo... No! Max, ma dai! Comunque c'è solamente quello Vabbè, fammelo saltare Non c'è nient'altro Tiriamo sto coso Ok, mo l'agganciamo Ma bisogna stare ancora più su Aspettate, qui sicuramente C'è il nido Eccolo qua Eh, però mo ci manca lo skateboard Quindi ci sarà ancora... Dopo questa parte qui Ci sarà ancora un'altra parte Per Darkroom Adesso abbiamo qualcosa sotto E troviamo la fotografia della luna E troviamo anche lo skateboard Sicuro Eh, al motore Ehm... Però se non ce lo fa prendere Non... Here's the other end of the rope Vediamo Quello non ce lo fa guardare Max, usa il rewind E arriva il motore E arriva qui Giusto Ehm... Ehm... Per favore, guardate qui Max. Max Guyver si tratta di nuovo. In realtà hanno anche fatto una nuova serie di MacGyver, però ancora non l'ho vista. Allora, possiamo andare. Aspetta, qui non ce l'ha niente, vero? Ah, come i buoni giorni. Sì, è pesante. Che è questo? Jackpot. Ho bisogno di dire quanto strano è? Lo ha fatto. Chi ha construito questo tipo di posto? Un di dottore di Prescott, ovviamente. Ragazzi, ma qua dovrebbe essere una cosa... ...ultra pesante, perché sennò... ...non si spiega. Cioè, questa qui è la fine dell'episodio, ma fino a ora non abbiamo scoperto niente, zero. Tranne il fatto che il professore è quello con il pezzetto. ... 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